che facciamo un bagnetto e che abbiamo una bomba da bagno speciale adesso riempiamo la vasca adesso riempiamo la vasca e poi facciamo la bomba da bagno speciale allora matti oggi la nostra mega bomba da bagno è quella della nasa sai chi sono la nasa? gli astronauti quelli che vanno nello spazio questa è la bomba di chi vanno nello spazio raccogliamo Federico non è successo niente e non è successo niente siamo persi la BB sentite facciamo questa bolla mi sa che c'è dentro c'è anche una sorpresa e vediamo ok siete pronti? si migliorazione la bomba da bagno degli astronauti è pronta stai pronto? stai pronto? sentiamo l'odore? comodora stai pronto? si la facciamo? si e dentro c'è la sorpresa che sarà un asteroide? un pianeta? che cosa sarà? sei sapone è certo vai sapone vai butta 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 tutta una scia con le galassie viola viola che spettacolo vi fate il bagno nello spazio profondo matti il bagnetto nello spazio il bagnetto è nero lo spazio c'è anche il colorato di viola può essere Fede? si si Filippo Filippo che combini? si si siamo molto curiosi di vedere cosa c'è dentro Tato eh si ci sarà qualcosa? si ah tu guarda fammelo vedere fammelo vedere sembra la luna si è vero Fede wow Federico Federico hai visto l'acqua viola? oh c'è qualcosa c'è qualcosa facci vedere facci vedere eh che cos'è? un alieno allora era veramente un pianeta alieno fammi vedere sai questo che fa anche? fa? si illumina al buio poi lo proviamo? eh? si adesso giochiamo un po' con quest'acqua spaziale? si si ragazzi state allagando il bagno eh? come al solito Fede ti diverti? Federico? si Filippo Filippo che fai? nuoti? si babbom nuoti? ma no Matti Matti no quello è il campanello di emergenza no 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 Fedino guarda che rigati Fede eh guarda che rigati è eh si è io passo via due eeeh 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 boing eeeh 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 ci vediamo dopo eeeh we vediamo dopo no alla fine e questa è la fine amore no alla fine dai u SD a o gonna Iscrivetevi al nostro canale di Mattia Ciao, salutate tutti Ciao, vi vediamo dopo Ciao